Buonasera a tutti, benvenuti all'ultima puntata di un ciclo Parliamo di Salute che abbiamo organizzato in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali di Cinisello e questa ultima puntata va a concludere un percorso in cui abbiamo parlato di prevenzione più che altro, più che di cura e anche quest'ultimo appuntamento riguarderà la prevenzione quindi è rivolto alle persone sane in una funzione preventiva. Prima di lasciare la parola al dottor Musumeci che è il curatore scientifico di tutto il ciclo che poi introdurrà le due relatrici della serata, mi piace segnalarvi che finito un ciclo ne inizia un altro proprio in questa settimana, che è la settimana in cui cade l'8 marzo la festa della donna, finiamo il ciclo con un argomento che apparentemente dovrebbe essere di interesse per lo più femminile anche a giudicare dalla platea in realtà poi scopriremo che non è così e quindi è molto importante che anche gli uomini prestino attenzione a questo tema ma esattamente come è altrettanto importante che gli uomini prestino attenzione al tema di genere, alle questioni di genere che inaugureremo dopo domani in Bicocca con una conferenza di presentazione e che poi si svilupperà fra aprile 2017 e gennaio-febbraio 2018 con una serie di incontri tipo questi in cui relatori dell'università e anche esterni si susseguiranno qui a Villa Forno per parlarvi appunto delle problematiche di genere lascio la parola al dottor Mosumeci e vi ringrazio per la presenza Buonasera a tutti, siamo arrivati a questo ultimo appuntamento, parliamo di salute e per me è veramente un piacere presentare le due relatrici che sono in primis la mia collega maestra diciamo all'università Clementina Cocuzza con cui condivido quotidianamente l'esperienza in microbiologia e non solo professoressa di microbiologia ma anche direttrice del laboratorio accreditato alla regione Lombardia per la diagnostica microbiologica di microbiologia e virologia clinica presso la nostra università Questa sera è accompagnata e coadiuvata dalla collega Tiziana Dell'Anna che invece è una ginecologa presso attualmente l'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco ma che proviene dalla scuola di Monze e quindi dal San Gerardo di Monze e quindi con cui abbiamo condiviso tanti progetti longitudinali che ci hanno portato ad avere negli ultimi dieci anni sviluppi e avanzamenti scientifici che possiamo ora dimostrare poter riuscire a essere restituiti sul territorio è una delle nostre imprese quella di fare medicina traslazionale dalla necessità del paziente si arriva in laboratorio dal laboratorio restituiamo strumenti e cure per il paziente così come tante volte parliamo di medicina personalizzata e cerchiamo proprio in questo caso vedrete come stasera le relatrici condurranno il filo sulla personalizzazione sia della diagnostica e poi eventualmente del management della cura ultimo ma non ultimo la Ministero della Salute ha ultimamente deciso di inserire per esempio la vaccinazione per HPV di cui parleranno ampiamente le colleghe anche nel mondo maschile quindi la problematica HPV finalmente viene sdoganata nel mondo maschile quindi si parlerà di vaccinazione si parlerà di nuovi vaccini per quanto riguarda la copertura di HPV si parlerà di LEA che introducono appunto questa vaccinazione quindi non mi dilungo d'oltre e do la parola alle relatrici grazie grazie ringrazio il collega Rosario Musumeci ringrazio anche i colleghi della biblioteca per aver organizzato questa serie di incontri per avermi invitato a partecipare questa serie ringrazio a voi per essere presenti ma un particolare ringraziamento visto che il collega ha parlato di scuole è proprio per il professor Costantino Mangioni da cui origina la scuola di ginecologia che ha portato negli ultimi dieci anni a molti degli interessi anche nell'ambito della ricerca per lo studio di questo virus per cui per me rappresenta un'utile e importante occasione anche per ringraziare il professor Mangioni la tematica come abbiamo già sentito è quella del papilloma virus per la salute della donna ma anche come vedremo per la salute degli uomini e volevo introdurre l'argomento per dirvi che cos'è un virus in fondo stiamo parlando di virus non so se per tutti è noto che questi agenti infettanti non sono in realtà propriamente degli esseri viventi non sono degli esseri che sono in grado di metabolizzare produrre energia ma unicamente sono degli esseri che sono in grado di replicarsi ma per fare questo hanno la necessità di entrare all'interno di altre cellule per cui un tropismo per delle cellule che permettono loro di replicare il genoma di quantità estremamente esigua che è il loro codice genetico per formare nuove particelle virali per cui per fare questo devono entrare in alcune cellule viventi e nel caso del papilloma virus queste sono come dice il termine human papilloma virus in inglese sono cellule umane e quando all'interno di queste cellule sono in grado di replicarsi e formare nuove particelle virali che sono delle particelle estremamente semplici formate da un involucro proteico all'interno del quale c'è il genoma del virus stesso come lo descrisse il premio Nobel David Baltimore un biologo statunitense che ha studiato e ha contribuito in maniera importante nelle conoscenze dei virus anche in relazione ai tumori sono delle cattive notizie inglobate in un cappotto proteico e qui vediamo appunto la definizione per cui questi sono in termini generali virus guardiamo ai papilloma virus qui vediamo appunto le piccolissime dimensioni di questi involucri proteici che hanno all'interno il genoma virale e il genoma permette e le caratteristiche della particella virale permette di classificarli e qui abbiamo la classificazione di questi virus in una famiglia, questo dal punto di vista tassonomico che appunto prevede questo capside rotondeggiante che viene definito il cosaedrico all'interno del quale c'è questo genoma sotto forma di DNA circolare un genoma esiguo perché il virus non ha bisogno di produrre enzimi o altre sostanze per il metabolismo che vi ho detto non è esplicato da queste particelle infettanti ma contiene dei geni che codificano per delle proteine virali estremamente importanti e vi faccio rapidamente vedere questo per ricondurvi poi a delle proteine 6 e 7 che vediamo sono fondamentali per permettere a questo virus di trasformare e produrre tumori mentre ci sono poi le proteine che codificano proprio per il cappotto proteico le proteine L1 che invece sono importanti per quanto riguarda li rincontreremo per quanto riguarda l'allestimento dei vaccini questi virus che ho detto sono virus umani sono virus estremamente diffusi sono ovunque sopra le nostre superfici cutanee e le nostre mucose presenti senza causare alcun danno alcuna patologia non sappiamo neanche di averli sono anche diffusi nell'ambiente per cui li troviamo anche su corpi inanimati e le infezioni sono estremamente frequenti quando più raramente sono in grado di portare a una malattia per cui le infezioni spesso sono asintomatiche ovvero non manifestano alcuna patologia laddove invece la patologia si evidenzia questo è spesso sotto forma di lesioni proliferative dell'acute e della mucosa perché sono proprio queste le sedi predilette dal virus dove il virus troverà le cellule adatte per potersi replicare e qui può provocare lesioni come vedremo sia benigne che maligne nell'acute e nelle mucose e qui vediamo uno strato di cute o mucose dove vedete che la cellula prediletta dal virus è proprio quella nello strato basale dell'acute quella non differenziata e per cui il virus approfitta spesso di microabrasioni nell'acute di piccole lesioni che permettono al virus di penetrare ed arrivare a quelle cellule dello strato basale quelle cellule permetteranno appunto come dicevamo prima al virus di svolgere la sua unica funzione che è quella di potersi replicare questi appunto sono i papillomavirus sono più di 180 tipi diversi per cui non c'è un unico tipo virale ma ce ne sono almeno 180 sottotipi che sono diversi per piccole differenze nella sequenza del loro genoma e queste piccole differenze determinano appunto differenze anche nella sede per cui abbiamo detto cute e mucose ma ce ne sono alcuni che infettano solo la cute altri che infettano solo le mucose e questo è determinato dal sottotipo ma ancora più importante per quelle poche patologie che evolvono appunto a portare a una trasformazione cellulare al tumore e la differenza all'interno di questi 180 tipi diversi relativamente al potenziale oncogeno alla capacità di produrre tumori e qui abbiamo una diapositiva molto complicata di cui vi parlerà più ampiamente la mia collega Tiziana Dell'Anna ma qui ci sono i tantissimi genotipi ma solo per farvi vedere che alcuni di questi sottotipi sono cutanei alcuni sono invece specificatamente in grado di infettare le mucose e poi appunto all'interno di questi sottotipi ci sono quelli che nelle mucose causano lesioni benigne le verruche genitali le condilomi genitali altri invece che sono più oncogeni più in grado di trasformare che vediamo appunto raggruppati in alcuni gruppi più intimamente correlati e perché è importante questo? Perché quelli che sono più intimamente correlati portano a una risposta del sistema immunitario che dà un riconoscimento crociato per cui il vaccino quando la collega Dell'Anna parla dei vaccini alcuni vaccini hanno una protezione anche nei confronti di altri tipi che non sono fisicamente presenti nel vaccino ma che sono molto vicini molto strettamente correlati a quelli inclusi nel vaccino stesso anche qui non mi dilungo su questa diapositiva qui vediamo appunto la divisione dei vari tipi diversi di papillomavirus in base alle patologie quelli dei bambini le verruche cutanee quelle le verruche genitali e anche poi quelli come vengono definiti ad alto rischio ad alto potenziale oncogeneo che invece sono correlati appunto all'insorgenza di tumori anche qui non mi dilungo sulla trasmissione perché ne parlerà appunto la mia collega dal punto di vista clinico solo per dirvi che parleremo forse in maniera più dettagliata di quelli che causano infezioni nelle mucose quelli che tipicamente sono detti avere una trasmissione per contatto diretto mucosa-mucosa ovvero per trasmissione sessuale ribadisco quello che vi ho detto prima sono virus ubiquitari la maggior parte di questi virus possono essere presenti nelle nostre superfici corporee senza provocare alcuna malattia per cui non sappiamo di averli e anche laddove siano in grado di provocare un'infezione questa è spesso transiente ovvero senza sapere ci infettano e poi vanno via ci lasciano senza lasciare alcun segno solo una minoranza di infezioni invece dà luogo a lesioni benigni o condilomi o tumori quando ci acquisiamo questi virus così diffusi le donne le acquisiscono spesso le ragazzine le acquisiscono all'inizio dell'attività sessuale per cui per le donne c'è un picco nella prevalenza di queste infezioni nei primi anni dopo l'inizio dell'attività sessuale per cui le ragazze dai 24 dai 20 ai 25 anni sono quelle in cui c'è un picco nelle infezioni anche asintomatiche da parte di questi virus l'uomo non è esente come abbiamo detto da queste infezioni anzi nell'uomo queste infezioni che iniziano nelle mucose all'inizio dell'esordio dell'attività sessuale poi rimangono alte come prevalenza per tutto il resto della vita per cui mentre nella donna c'è un picco che poi scende nell'uomo invece queste infezioni come dicevamo prima di cui non sappiamo neanche di avere la presenza del virus possono rimanere altamente prevalenti anche con l'avanzare dell'età e il fatto che questi non causino infezioni lo vediamo anche da questa diapositiva questa diapositiva presa da una pubblicazione che mostra la prevalenza quante donne sono infettate nelle diverse aree geografiche e questo mostra che nonostante le infezioni siano altamente prevalenti nella popolazione sessualmente attiva le prevalenze in donne sane questa mostra quante infezioni quante donne sono infette donne che non hanno alcuna patologia per cui vediamo le donne sane vediamo come in Europa circa il 6,6% le donne di tutte le età hanno un'infezione senza probabilmente neanche saperlo in Europa anche se come vedremo successivamente le percentuali sono diverse in alcuni paesi europei rispetto ad altri molto più alti invece quello che volevo sottolineare la prevalenza di queste infezioni in paesi meno sviluppati come in Africa vediamo quasi il 23% nel Sud America un quasi 20% e l'altro aspetto importante che volevo sottolineare è come queste diverse prevalenze siano associate a, queste sono prevalenze dei genotipi cosiddetti ad alto rischio siano associate a prevalenze diverse anche all'interno dei sottotipi virali per cui non tutti i paesi a livello globale hanno la stessa percentuale per esempio di HPV16 che come vedremo è il genotipo più oncogeno più in grado di portare a tumori per cui qui abbiamo la figura di quella che è la prevalenza in donne sane che varia nell'ambito delle diverse aree geografiche nonostante abbia detto che il virus la maggior parte delle volte non causi alcuna patologia è in dubbio è assolutamente dimostrato tant'è vero che l'Organizzazione per la Sanità Mondiale ha riconosciuto questo come il primo tumore assolutamente in maniera certa associato a un virus a un'infezione virale per cui sebbene dovete ricordare che nella maggior parte dei casi questi virus non causano alcuna patologia è altrettanto certo che il tumore della cervice uterina è stato oggi con certezza riconosciuto essere correlato a una causa infettiva o meglio alla presenza del virus tant'è vero che questo virus sappiamo oggi essere la seconda causa di tumori solo dopo al tabacco per cui è certamente un virus oncogeno che significa un virus in grado di provocare la formazione di tumori non mi dilungo sull'aspetto clinico ma una cosa che voglio che poi appunto parlerà molto meglio di me molto più chiaramente di me la mia collega ginecologa quello che voglio mostrarvi è appunto la correlazione tra le infezioni asintomatiche quelle che non provocano alcuna sintomatologia e il tumore c'è certamente una correlazione ci sono certamente molte più infezioni asintomatiche che però vengono eliminate dal nostro corpo per cui così come vengono in maniera silente se ne vanno anche senza che noi abbiamo modo di capire che abbiamo in corso un'infezione virale e solo dopo e solo in alcuni casi dopo che uno di questi virus altamente oncogeno di quelli di cui appunto vi parlerà meglio la mia collega solo quando uno di questi virus che hanno la capacità di trasformare le cellule è rimasto nelle mucose per anni e parliamo di 5 10 15 anni solo dopo un'infezione che viene per questa ragione chiamata persistente perché persiste non per qualche giorno non per qualche settimana ma per anni dopo questa persistenza da parte di questi genotipi oncogeni allora lì solo lì si può avere la trasformazione al tumore però appunto come vi dicevo prima questa distinzione tra l'infezione transiente che viene eliminata in maniera completamente asintomatica senza che la donna sappia che ha avuto un'infezione in corso rispetto a quella persistente verrà poi discussa in maggior dettaglio dalla mia collega Tiziana Dell'Anna questo è appunto ancora una volta enfatizzare la durata questo è un tumore quello del collo dell'utero che si evolve nell'arco di anni non è qualche cosa che si sviluppa nell'arco di poco tempo di poche settimane o di mesi ci vogliono anni e ci vuole uno di quei tipi che è in grado di provocare tumore vi ho detto ce ne sono 180 solo 14 di questi sono sicuramente coinvolti nel tumore per cui dobbiamo avere uno di quei tipi altamente oncogeni questo tipo deve rimanere e replicarsi perché questa è l'unica cosa che i virus sanno fare si sanno l'unica cosa che fanno l'unico modo in cui producono il danno è tramite la loro replicazione per cui certamente nell'evoluzione possiamo riconoscere dei fattori virali ma anche dei fattori correlati alla nostra risposta all'infezione come abbiamo detto i fattori virali è la presenza di uno o più perché questa è l'altra cosa importante spesso non abbiamo un'infezione da un solo tipo le infezioni multiple dove ci sono più tipi di HPV anche più tipi di HPV oncogeni sono estremamente frequenti per cui sono ubiquitari sono diffusi causano spesso infezioni e spesso sono più di uno a causarci infezioni qualcuno va e poi ne viene un altro durante l'attività l'arco di tempo quando il soggetto la donna che l'uomo sono sessualmente attivi questi virus e spesso più di uno in concomitanza sono in grado di produrre infezioni ma quelli che sono più spesso riscontrati nei tumori sono i due il 16 e il 18 probabilmente ne avete sentito parlare perché sono quelli che dall'inizio sono stati introdotti nei vaccini perché il 16 e il 18 insieme causano il 70% dei tumori se poi aggiungiamo gli altri ho detto ce ne sono 14 qui non sono tutti e 14 ma anche solamente arrivando a 7 di questi genotipi vediamo che arriviamo alla causa del 90% dei tumori per cui di quei 180 questi sono quelli che sono importanti per l'evoluzione del tumore e come dicevo prima questi tipi devono essere associati all'infezione e devono rimanere per anni le donne che hanno un virus che continua a replicarsi nelle loro mucose per almeno 5 anni hanno un maggior rischio di sviluppare il tumore e sono solo il 10% di tutte quelle che vengono infettate anche con questi stessi virus altamente oncogeni per cui possiamo avere l'infezione anche da questi 14 più cattivi ma la maggior parte delle volte questi andranno via e solo nel 10% dei casi la patologia andrà avanti e causerà il tumore e che cosa succede in questi anni cosa succede il virus come vi ho detto prima entra si trova la cellula giusta per potersi replicare e si replica tanto per cui nei primi anni il virus si replica e forma nuove particelle virali che cosa faranno queste particelle virali andranno a essere eliminate dalle mucose e tramite i rapporti sessuali a essere trasmessi allo stesso partner o a altri partner con cui la donna viene in contatto stessa cosa avverrà nell'uomo per cui i partner sessuali si scambiano gli HPV che si sono replicati nelle loro mucose tuttavia a lungo andare questo virus che si è replicato in queste cellule dopo tempo smetterà di replicarsi così tanto e il genoma del virus quelle sequenze tipiche che fanno parte del DNA che codifica per le proteine virali si inserisce nel genoma della cellula nostra delle cellule ospiti per cui a un certo punto il virus smetterà di replicarsi e si andrà a inserire all'interno del genoma delle nostre cellule spesso questo è il momento in cui il virus comincia a produrre delle proteine quei geni 6 e 7 che sono le proteine cosiddette oncogene quelle che portano la cellula ospite a diventare una cellula tumorale per cui con gli anni vedete le cambiamenti nella mucosa che portano al tumore per cui questo è quello che succede l'unica cosa che il virus ha fatto è quella di essere stato in grado di entrare le cellule e di replicarsi e queste sono le proteine che portano al tumore altrano il ciclo cellulare e portano alla perdita del controllo del sviluppo delle cellule per cui al tumore poi per cui questi sono aspetti legati a quello che fa il virus cosa fa l'ospite quando c'è questa infezione cerca di sviluppare una risposta una difesa nei confronti dell'infezione ci sono tante difese quelle legate all'attività di alcune cellule del sistema immunitario quelle degli anticorpi qui vediamo appunto cosa succede la linea tratteggiata rossa il virus che si replica quando abbiamo un'infezione il virus si comincia a replicare tanto e porta a quel picco e quel picco nella presenza del virus porta a tutto un innesco nella risposta immunitaria di difesa che causa l'eliminazione del virus questo avviene nella stragrande maggioranza delle persone ma ci sono alcune donne non è ancora chiaro le ragioni che invece non montano questa risposta immunitaria per cui il virus continua a replicarsi vedete la linea tratteggiata ma la risposta immunitaria non è sufficiente per eliminarlo sono queste le donne a maggior rischio e il legame con la risposta immunitaria è anche dimostrato dal fatto che le donne HIV positive per esempio che hanno una difesa immunitaria ridotta sono aumentato il rischio di sviluppare questi tumori ma anche donne che hanno altre infezioni sessualmente trasmesse le infezioni sessualmente trasmesse sono tantissime e sono spesso silenti non sappiamo neanche di averle la clamidia è causa di infertilità un'infezione comune nell'uomo e nella donna spesso non sappiamo di averla ma se abbiamo l'HPV e la clamidia insieme il nostro sistema immunitario fa più fatica ad eliminarli e per cui abbiamo più probabilità che il virus non venga eliminato e che per cui si sviluppi una infezione persistente per cui diversi fattori la mia collega appunto vi parlerà dei fattori anche dal punto di vista clinico importanti però è una situazione estremamente complessa dove c'è un virus che si innesca e che tende di persistere c'è la risposta immunitaria ci sono altre infezioni ci sono altri fattori di cui parleremo prima e questo determina l'eliminazione del virus e la regressione per cui il ritorno indietro in quelle che possono essere le patologie rispetto all'evoluzione invece della patologia qual è la mortalità associata e l'incidenza la mortalità associata a questi virus a livello mondiale piccolino forse non si vede chiaramente questi sono dati dell'organizzazione mondiale per la sanità vediamo che nei paesi sviluppati l'Europa vediamo gli Stati Uniti d'America la mortalità è estremamente bassa la vedete con la barretta azzurra e l'incidenza invece con la barretta rossa per cui sotto vediamo i paesi sviluppati vediamo invece che come abbiamo visto un po' prima per la circolazione dei virus che nei paesi come l'Africa il Sud America paesi meno sviluppati la mortalità rimane molto elevata anche in Europa come vi ho accennato prima in termini generali è uno dei paesi più sviluppati ma in Europa ci sono delle grosse differenze nei paesi per esempio dell'Europa dell'Est dove la mortalità è tutt'oggi molto elevata perché queste differenze certamente l'aspetto epidemiologico abbiamo visto appunto che la circolazione dei virus i genotipi che circolano sono diversi ma quello che sicuramente incide molto nelle differenze di incidenza di tumore al al servisce e anche di mortalità è l'attuazione di programmi di screening per cui la prevenzione e quello è l'argomento di cui abbiamo detto è un tema comune in questi ultimi incontri la prevenzione e l'attuazione di programmi di screening fa un'enorme differenza in termini di incidenza e mortalità tant'è vero questi sono appunto l'associazione per la ricerca contro il cancro dice che l'incidenza e la mortalità l'incidenza del tumore invasivo è stata ridotta dell'80% o più dall'introduzione del pap test che è stato introdotto appunto adesso da diversi anni portando a e nei paesi sviluppati a quella riduzione drammatica nell'incidenza di cui appunto sentirete parlare successivamente e anche qui non mi soffermo il pap test che è appunto l'osservazione delle cellule della cervice per vedere se sono state alterate in morfologia in aspetto dal virus è stato appunto lo step fondamentale nel ridurre nel prevenire questi tumori e insieme appunto a pratiche cliniche che di cui sentirete successivamente come la colposcopia che appunto dopo un pap test positivo la colposcopia aiuta il ginecologo a osservare la cervice uterina e anche a poter effettuare delle biopsie delle aree sospette pap test probabilmente molte delle donne avranno esperienza diretta si effettua tramite il prelievo appunto di cellule dalla cervice uterina ci sono diversi device che possono essere utilizzati per il prelievo si va a livello del collo dell'utero si prelevano si raccolgono tramite questi device delle cellule che poi vengono appunto poste sulla superficie di un vetrino e poi questo vetrino viene osservato da un anatomo patologo dal laboratorista per vedere l'aspetto delle cellule e dimostrare la presenza di alterazioni associate alla presenza del virus poi appunto se questo pap test è positivo la colposcopia che è l'indagine che viene effettuata quando la citologia quando il pap test mostra degli esiti appunto che dimostrano un cambiamento importante la colposcopia permette al ginecologo di controllare eventuali anomalie proprio visivamente e di poter effettuare anche delle biopsie dei prelievi di tessuto che poi ancora una volta vengono osservati al microscopio per vedere i cambiamenti che sono tipici qui adesso non mi addentro a quelli che sono gli esiti se magari qualcuno dopo vuole ha avuto esperienza diretta questi sono i gradi di cambiamenti che il patologo può evidenziare sia dal pap test che dall'esame bioptico certamente il pap test ho esordito dicendovi ha ridotto nei paesi dove questi programmi di schemi vengono attuati la mortalità quali sono però gli svantaggi del pap test il pap test è un esame che è ottimo quando dimostra cambiamenti morfologici ma essendo anche operatore dipendente perché c'è qualcuno che deve guardare a quel vetrino dove sono state appunto poste le cellule così prelevate può dare cosiddetti falsi negativi ovvero ci possono essere donne che hanno il virus che hanno dei cambiamenti che però non vengono a essere rilevati dall'osservatore dall'esame per cui un problema tecnico in cui il pap test ottimo quando è positivo ma quando è negativo potrebbe nascondere delle donne potenzialmente il rischio si sono migliorati i pap test adesso non sto ad addentrarmi ci sono dei pap test che vengono non più messi sul vetrino ma vengono messi in un liquido che poi viene meglio distribuito sulla superficie del vetrino permettendo all'anatomo patologo di meglio leggere questi vetrini per cui certamente ci sono stati degli avanzamenti in questo tipo di esame ma quello che sicuramente ha portato ha una rivoluzione in termini di analisi di test che vengono fatti per verificare le donne a rischio è le conoscenze che abbiamo sul ruolo del papilloma virus e sulla capacità che abbiamo adesso tramite analisi molecolari di ricercare il virus nelle cellule per cui abbiamo la possibilità di utilizzare nello screening sia l'analisi l'osservazione delle cellule ma anche la ricerca proprio del genoma virale come evidenza della presenza del virus e questo ha tanto rivoluzionato il modo di fare prevenzione che adesso le linee guide europee dicono non facciamo più il pap test facciamo l'hpv test perché è un metodo molto più sensibile non si perde nessuna delle donne che ha l'infezione per cui le linee guida adesso indicano il pap test come test successivo a un hpv test positivo per cui proprio una rivoluzione che in Italia poi mi confermerà la collega sta cominciando in alcune regioni perché in Italia abbiamo questa caratteristica alcune regioni sono più avanti alcune regioni sono più indietro in alcune regioni già l'hpv test ha sostituito come in Toscana in Emilia Romagna ma anche in Umbria per l'uomo in particolare ma anche per la donna per questi tumori meno frequenti non si fa screening sebbene siano patologie importanti anche nell'uomo non ci sono linee guida chiare per fare la diagnosi e la diagnosi pertanto avviene spesso in una fase più avanzata per cui quando vediamo troviamo il tumore più avanti più difficile fare il trattamento ridotte la sopravvivenza inoltre un altro aspetto che lega l'hpv nell'uomo recentemente è stato legato a casi di infertilità per cui il virus è stato riscontrato in uomini che non hanno condilomi che non hanno tumori ma che nel liquido seminale hanno il virus che è associato all'infertilità di questi per cui fin quando l'uomo non riconosce che questo è un problema anche dell'uomo perché d'altra parte è un'infezione sessualmente trasmessa e l'uomo è il partner della donna con l'infezione fino a quando l'uomo non conosce le problematiche e l'uomo rimane serbatoio del virus per cui lo trasmette ai suoi partner altre donne allora il virus continuerà a essere circolante un altro aspetto e poi fra poco finisco perché non voglio lasciare il tempo alla mia collega ma abbiamo parlato di tutti questi tumori abbiamo parlato di condilomi abbiamo parlato dei tumori che sono associati spesso anche alla trasmissione sessuale orofaringe tumore anale tumore delle genitali esterni tutti è comprensibile la appunto la trasmissione in queste sedi ma più recentemente sta avvenendo a essere evidenziato in studi che il virus è legato anche al tumore della mammella è legato anche al tumore del polmone può essere legato anche al tumore della prostata e del colon e allora come ci va il virus perché abbiamo iniziato dicendo sono virus che si replicano nell'acute e nelle mucose e come ci arrivano posso capire come arriva al loro faringe posso capire come arriva genitali esterni ma come arriva a queste sedi distanti e queste prendo come esempio il carcinoma della mammella che è un tumore importantissimo nella donna insieme al carcinoma della cervice e qui vedete un articolo che è una meta analisi degli studi pubblicati dove mostra che il virus e l'HPV è stato trovato nel 23% di più di 2000 campioni analizzati di tumore alla mammella per cui non tutti i tumori della mammella ma una buona percentuale questo virus viene ritrovato nei tessuti tumorali e qui un lavoro anche svolto da alcuni colleghi con cui collaboriamo in Sardegna queste tipologie di tumore alla mammella questi triple negative hanno analizzato e anche qui hanno trovato nelle biopsie di questi tumori la presenza di questi virus vediamo il 16 ancora una volta quelli altamente oncogeni non troviamo il 18 ma troviamo altri di quelli che sono i tipi altamente oncogeni per cui qui c'è un mondo ancora da conoscere nel potenziale ruolo di questi virus anche in altri tumori che fino adesso non avevamo associato all'HPV e come arrivano appunto a queste sedi distanti uno studio che abbiamo svolto insieme alla dottoressa dell'Anne al gruppo del San Gerardo della ginecologia del San Gerardo dove abbiamo fatto appunto effettuato uno studio su donne che presentavano all'inizio quando avevano un'infezione cervicare nelle fasi iniziali appunto dei cambiamenti della cervice e abbiamo reclutato queste 120 donne che presentavano all'ombruttore di ginecologia e abbiamo effettuato la ricerca dell'HPV sia nella cervice ma anche nel sangue di queste pazienti abbiamo trovato che c'erano certamente 44% 53% di queste pazienti avevano l'HPV nel campione cervicale ma 41% lo avevano anche l'HPV DNA anche nel sangue e di queste 25% lo avevano in entrambi in contemporanea in entrambi i campioni questo è una cosa peculiare perché abbiamo detto che il virus è un virus cutaneo e mucosale cosa ci fa nel sangue e qui vediamo appunto che anche qui il genotipo HPV 16 è più importante sia nel nel campione cervicale che nel plasma e l'altra cosa di cui vi dicevo prima abbiamo trovato che nel campione cervicale 44% dei pazienti aveva più di un HPV oncogeno in contemporanea ma che la contemporaneità degli HPV c'era anche nel sangue il 34% dei pazienti che avevano l'HPV ne avevano più di uno per cui non è un artefatto qui troviamo il virus e il DNA virale nel torrente ematico per cui c'è ancora tanto da conoscere con questo vi voglio lasciare tanto da conoscere per quello che è il ruolo di HPV anche in altri tumori e questo porterà anche a dei possibili vantaggi anche nel vaccino per cui vi ringrazio per l'attenzione e voglio solo anticiparvi che alla fine per alcune abbiamo portato una ventina di tamponi per lato prelievo chi volesse alla fine può venire qui per prendere un campione che noi potremmo analizzare gratuitamente presso il nostro laboratorio proprio visto che fra qualche giorno è la giornata della donna abbiamo voluto appunto in occasione di questa serata portare questa possibilità a tutti voi e vi ringrazio per l'attenzione buonasera grazie grazie per l'invito e grazie a voi tutti per essere qui io sono come vi diceva prima la professoressa Cocuzza una ginecologa per cui la mia presentazione avrà un taglio molto più clinico molto più pratico se volete vi racconterò quello che generalmente dico alle mie pazienti io mi occupo di patologia del basso tratto genitale sono una colposcopista per cui vedo con una certa frequenza le donne prevalentemente le giovani donne che hanno una infezione da papilloma virus e mi occupo della prevenzione proprio delle infezioni da papilloma virus andrò abbastanza rapida su le cose che la professoressa vi ha già raccontato avendo fatto una presentazione davvero esaustiva da questo punto di vista eccomi giro un attimo questo allora non vi racconto nuovamente che cos'è il papilloma virus soltanto vi ricordo che può avere un tropismo tanto per la cute quanto per le mucose addirittura alcuni hpv sono squisitamente ed esclusivamente del mondo animale quindi un virus davvero molto diffuso ne conosciamo tantissimi sull'uomo da le banali e comuni verruche e i condilomi genitali che sono il corrispettivo delle verruche a livello delle mucose a livello dei genitali io portate pazienza vi parlerò prevalentemente di donne e di apparato genitale femminile non me ne vogliano i maschi presenti però questo è 40 di questi virus coinvolgono le mucose e la cute appunto dell'apparato genitale tanto maschile quanto femminile mi piace suddivisere l'hpv in due grandi famiglie le famiglie la famiglia a basso potenziale oncogeno a basso rischio oncogeno e quella ad alto rischio oncogeno quelli l'hpv a basso rischio oncogeno sono quelli che non sono bravi a dare il tumore ed hanno prevalentemente i condilomi le verruche genitali vi prego di tenere a mente il numero 6 e il numero 11 poi capirete perché mentre nella famiglia ad alto potenziale oncogeno abbiamo quegli hpv capaci di provocare lesioni pretumorali e le lesioni poi francamente tumorali del colo dell'utero e qui dovete tenere a mente i genotipi 16 e 18 come si trasmette il papillomavirus il papillomavirus è la più comune infezione a trasmissione sessuale per cui il contatto per quanto riguarda l'apparato genitale tanto maschile quanto femminile avviene attraverso il contatto genitale per il contatto per il contagio scusate non è necessario un rapporto penetrativo non dobbiamo avere necessariamente un rapporto completo è sufficiente un rapporto mediante contatto contatto genitali genitali mano genitali bocca genitali ok quindi capite che l'utilizzo del profilattico non ci protegge completamente dall'infezione questo non significa che io non consiglia alle mie pazienti di utilizzare il profilattico perché il profilattico è sicuramente lo strumento più efficace per prevenire le malattie a trasmissione sessuale solo due malattie a trasmissioni sessuali non riconoscono una protezione completa da parte del profilattico e sono proprio il papillomavirus e l'herpes genitale l'infezione ad HPV è molto frequente molte donne in gravidanza arrivano alla mia osservazione con un'infezione ad HPV e sono terrorizzate dalla modalità del parto allora l'infezione madre-bambino è un'infezione estremamente rara è tanto rara quanto però pericolosa perché a livello del laringeo da quello che la professoressa aveva prima fatto vedere che è appunto questa papillomatosi della laringe del neonato che può essere di difficilissima gestione da parte del neonatologo del pediatra ma bisogna rassicurarle le donne perché questo tipo di infezione è veramente molto molto rara un solo genotipo la provoca che è il genotipo numero 6 lo stesso che dai condilomi e l'altra cosa che bisogna dire alle donne e anche ai ginecologi che avere un'infezione da papillomavirus non è un'indicazione al momento del parto per optare per un taglio cesareo questo poi se avete delle domande nello specifico possiamo approfondirlo nonostante tutto proprio il professor Mangioni mi ha insegnato che il papillomavirus è un virus amico perché del papillomavirus sappiamo tantissimo e quindi dal papillomavirus non solo possiamo proteggerci ma qualche volta non dobbiamo necessariamente proteggerci perché perché nella maggior parte dei casi fino al 90% l'infezione da papillomavirus è un'infezione transitoria se ne va da sola il sistema immunitario è in grado di arginarla il virus quindi viene eliminato prima che possa sviluppare effettivamente la malattia un effetto patogeno quindi nella stragrande maggioranza dei casi il papillomavirus non provoca nessuna alterazione e la risoluzione dell'infezione è una risoluzione spontanea se l'infezione è un'infezione da HPV da papillomavirus a basso rischio la donna o l'uomo possono sviluppare i condilomi se l'infezione da HPV è un'infezione da HPV ad alto rischio allora possono esserci da prima le lesioni pretumorali magari qualcuno di voi ha sentito parlare o ha avuto un test positivo per lesioni tipo CIN CIN1 CIN2 CIN3 che sono le declinazioni delle alterazioni cellulari che il pap test legge quando l'HPV è presente CIN1 meno grave a basso rischio CIN2 CIN3 ad alto grado lesioni francamente pretumorali che possono coinvolgere anche se più raramente anche la vulva e la vagina fino ad arrivare al tumore del collo dell'utero al tumore della cervice uterina quello che voi dovete immaginare è una piramide alla cui base ci sono tutte le donne qui parlo di nuovamente solo di donne sessualmente attive per cui potenzialmente in grado di incontrare il papillomavirus vedete che la base è molto ampia l'apice di questa piramide è rappresentata dal tumore solo poche donne che si infettano con il papillomavirus arrivano all'apice sviluppando il tumore e peraltro nel mezzo ci sono dei gradoni intermedi su cui il ginecologo può intervenire e può intervenire in maniera non invasiva cercando di prevenire lo sviluppo del tumore questa immagine ve l'ha già fatta vedere la professoressa Cucuzzi io voglio soltanto farvi vedere quello che vedete le particelle viola sono il papillomavirus che vanno ad infettare una cervice normale un collo dell'utero normale si può avere quindi si possono quindi avere delle alterazioni cellulari di grado lieve e quindi queste alterazioni possono vedete che la freccia è bidirezionale questa infezione può regredire e la cervice tornare normale queste alterazioni di basso grado possono progredire verso lesioni precancerose quindi di grado più elevato ma nuovamente la freccia è bidirezionale cioè esiste la possibilità che anche le alterazioni cellulari di alto grado possano regredire spontaneamente quando la freccia è purtroppo unidirezionale quando dalla lesione precancerosa si passa al tumore del collo dell'utero quando il tumore del collo dell'utero è presente quindi quando abbiamo una lesione invasiva francamente maligna non è più possibile la risoluzione spontanea ma di nuovo l'HPV è un virus amico perché ci dà il tempo ci dà il tempo per fare la diagnosi ci dà il tempo per riconoscere queste infezioni e ci dà e abbiamo oggigiorno tanti strumenti per riconoscere l'infezione o le lesioni pretumorali infatti come vi diceva prima anche la professoressa ci vogliono molti anni perché l'infezione possa dare lesioni prima tumorali e poi perché le lesioni pretumorali si trasformino francamente in un tumore e fortunatamente di nuovo solo poche donne che hanno contratto l'infezione sviluppano il tumore questo perché voglio ed è il mio compito quotidianamente in ambulatorio rassicurare le donne che arrivano con un'infezione da HPV perché purtroppo la tendenza attuale è quella di consultare ma anche giustamente il web e quindi il dottor Google in genere dà delle risposte che possono non essere congrue o possono non essere interpretate in maniera congrua dall'utente e quindi in genere le pazienti fanno questo scusate non sono dipendente dallo smartphone che sono reperibile in sala parto per cui continuo a guardare e quindi abbiamo queste pazienti che arrivano davvero spaventate per queste alterazioni che invece soprattutto nelle donne molto giovani possono e anzi nella stragrande maggioranza dei casi regrediscono spontaneamente però di fatto vi posso rassicurare finché volete ma abbiamo una certezza non esiste tumore del collo dell'utero senza che precedentemente ci sia stata un'infezione da papilloma virus questo ve l'ha spiegato molto bene la professoressa e non non insisto ulteriormente non basta solo il tumore del collo dell'utero ci sono donne che più facilmente sviluppano o più rapidamente sviluppano il tumore del collo dell'utero conosciamo quelli che noi chiamiamo cofattori per lo sviluppo del tumore in primis l'attività sessuale intesa come esordio dell'attività sessuale e numero di partner perché questo è intuitivo più precocemente inizia l'attività sessuale e maggiormente è promiscua più è facile incontrare un HPV ad alto potenziale oncogeno il fumo di sigaretta neanche a dirlo è un acceleratore ormai noto e riconosciuto sulle lesioni pretumorali da HPV tende a far quindi passare più rapidamente la lesione pretumorale a lesione tumorale l'utilizzo di contraccettivi orali nuovamente sono stati dimostrati essere un acceleratore delle lesioni pretumorali verso il tumore così come vi diceva prima la professoressa le infezioni con altri malattie a trasmissione sessuale io vi ho riportato l'herpes ma ormai i dati sono sempre più solidi anche rispetto alla clamidia e ovviamente lo stato di immunodepressione della donna per cui donne HIV positive come avete sentito prima ma anche donne ad esempio trapiantate con terapie immunosoppressive in corso ma prima di sviluppare il tumore ci vuole va bene i cofattori ma ci vuole un'infezione e persistenze da HPV soprattutto i due genotipi maggiormente oncogeni che sono il numero 16 e il numero 18 perché mi appassiona tanto questo argomento? perché io mi occupo di ginecologia oncologica e questo grafico vi fa vedere come il tumore della cervice uterina si distribuisce per età il massimo picco di incidenza si ha fra i 29 e i 49 anni quindi l'incidenza massima di sviluppo del tumore della cervice uterina è in donne giovani e in donne in età fertile che verosimilmente alla diagnosi potrebbero non avere ancora esaurito il loro desiderio di maternità quindi il 40% delle donne a cui è stato diagnosticato un tumore del colo dell'utero ha la fascia di età di cui vi parlavo 35-54 ma la maggior parte di queste donne proprio per il fattore tempo di cui vi parlavo ci vuole tempo perché l'infezione da HPV diventi un tumore è entrata verosimilmente in contatto con l'HPV a potenziale oncogeno fra i 16 e i 25 anni quindi un'età molto più giovane non abbiamo una terapia per l'HPV non servono ovuli non servono antibiotici non servono le lavande spesso questo ve lo dico perché spesso la prima cosa che mi chiedono le pazienti è che mi dicono va bene dottoressa ok ho questa infezione come la curo cosa mi dà niente non posso dare niente perché non ce l'ho la terapia non ce l'abbiamo la terapia per l'HPV la cosa più importante è identificare in tempo però le alterazioni provocate dal virus stesso e sono proprio quelle alterazioni cellulari che noi andiamo a cercare con il pap test quindi la cosa migliore che noi donne possiamo fare per difenderci dall'HPV per difenderci da quello che è poi la malattia poi eclatante che porta all'HPV il tumore del colo dell'utero è aderire ai programmi di screening quindi il tumore del colo dell'utero è una complicanza rara di un'infezione molto comune e tuttavia in Italia vengono registrati ancora tutt'oggi più di 3000 casi di nuovi più di 3000 casi di tumori dal colo dell'utero nella fascia di età che vi ho fatto vedere vi ho detto tante cose sull'HPV ne avete sentite altre tante in maniera molto più raffinata dalla professoressa Cocuzza non abbiamo la terapia abbiamo la prevenzione due tipi di prevenzione la prevenzione primaria cioè quella che mira prevenire l'infezione e qualcuno di voi potrebbe dirmi il profilattico posso provare a utilizzare il profilattico ma vi ricordo di nuovo che è una protezione completa globale totale e l'altra la vaccinazione di cui vi parlerò a breve e poi una prevenzione secondaria cioè facendo la diagnosi precoce dell'infezione delle lesioni pretumorali prima che queste diventino un tumore o quando sono tumori molto molto piccoli e abbiamo a disposizione uno strumento che ad oggi è stato veramente potentissimo nel ridurre l'incidenza del tumore del colo dell'utero che è il pap test e più recentemente come avete già sentito l'introduzione dell'HPV test io insisto moltissimo sulla sulla prevenzione che sia il pap test che sia l'HPV test quello dipende dal momento e dipende dall'evoluzione della scienza ovviamente ma aderire ai programmi di screening è la cosa migliore che si può fare per difendersi dal papilloma e guardate questa diapositiva come fa vedere è quello che prima vi ha detto la professoressa le due linee mostrano l'incidenza e quella tratteggiata la mortalità del tumore del colo dell'utero negli anni dal 1980 quando hanno preso forma in maniera più consistente i programmi di screening di popolazione mediante l'utilizzo dell'HPV guardate come è calata in maniera significativa la incidenza la incidenza e la mortalità per il tumore del collo dell'utero anche questo ve l'ha già spiegato la professoressa e nuovamente non non mi soffermo troppo anche la prevenzione secondaria quella che fino ad oggi abbiamo fatto con il pap test sta cambiando probabilmente nel prossimo futuro nei programmi di screening anche in Lombardia sarà introdotto il test dell'HPV sarà un test dell'HPV molto particolare perché andrà a cercare solo i genotipi oncogeni io voglio prevenire il tumore del collo dell'utero con questo tipo di screening per cui andrà a cercare solo i genotipi ad alto potenziale oncogeno sarà da utilizzare soltanto nei programmi di screening di popolazione per cui non andrete dal ginecologo privato a fare l'HPV test perché poi l'HPV test lì non viene gestito in una maniera adeguata una volta che avete un HPV test positivo ad alto rischio o il ginecologo privato che vi ha fatto lo screening con l'HPV sa che cosa dovete fare in maniera adeguata o sarete nel panico per cui HPV test soltanto dopo quello che vi abbiamo raccontato chi di voi non si spaventerebbe HPV tumore del collo dell'utero quindi l'HPV test nei programmi di screening perché lì verrà poi gestita la positività secondo delle flowchart dei modelli di comportamento predefiniti non andrà mai fatto prima dei 35 anni sto parlando dello screening non in caso di pap test alterato non prima dei 35 anni non oltre 65 anni non oltre 65 anni perché ve l'ho fatto vedere qual è il picco di massima incidenza noi qui dobbiamo ragionare in termini di popolazione dopo i 65 anni è più raro sviluppare un tumore del collo dell'utero non prima dei 35 anni perché trovare l'HPV è frequentissimo frequentissimo perché le donne sotto i 35 anni hanno che ci piace o no un'attività sessuale più vivace più florida per cui ovviamente è più facile che incontrino il papilloma virus senza che questo poi sia francamente patogeno e gli intervalli nello screening saranno non più i tre anni dell'attuale pap test ma cinque anni adesso concludo parlandovi della vaccinazione la vaccinazione in generale da un punto di vista epidemiologico rappresenta un intervento di prevenzione primaria cioè volta a prevenire l'infezione non mira solo alla protezione del singolo individuo e questo è un messaggio molto difficile da far passare oggigiorno la vaccinazione non è fatta solo per il singolo è fatta per la popolazione e oltre a proteggere l'individuo e la popolazione deve mirare dove è possibile all'eradicazione dell'infezione e della malattia stessa da qui intuitivamente poi non ci ritornerò la possibilità e l'importanza di vaccinare anche la popolazione maschile anche se la popolazione femminile è quella che sviluppa poi il tumore del collo dell'utero ma la professoressa vi ha parlato anche di altri tumori in cui l'HPV può essere coinvolto anche nei maschi di che vaccino stiamo parlando? due vaccini in commercio il primo vaccino si chiama Gardasil è stato introdotto nel 2007 in Italia quadrivalente si dice cioè contro quattro genotipi di HPV in particolare contro i due genotipi a maggior potenziale oncogeno che sono il 16 e il 18 responsabili del 70% dei tumori del collo dell'utero e contro gli altri due genotipi che sono il 6 e l'11 responsabili della quasi totalità dei condilomi genitali delle verruche genitali il secondo vaccino in commercio da novembre del 2007 per cui qualche mese dopo in Italia il cui nome commerciale è Cervarix che è un genotipo esclusivamente scusate è un vaccino esclusivamente contro il 16 e il 18 per cui pensato soprattutto anzi esclusivamente contro lo sviluppo dei tumori del collo dell'utero quindi 6,11 16 e il 18 il Gardasil 16 e il 18 il Cervarix entrambi che vaccini sono? sono vaccini profilattici quindi non terapeutici se una donna non ha contratto l'infezione ne ha il massimo del beneficio se la donna ha già contratto l'infezione ne ha un beneficio parziale non sono terapeutici non curano le lesioni vanno a prevenire che la donna vanno a fare in modo che la donna non si infetti non che si risolva l'eventuale alterazione cellulare che ha in corso vedete che adesso questi sono dettagli tecnici sono vaccini in cui le proteine diciamo di superficie del virus simili a quelle di superficie del virus si assemblano dando origine a quelle che vengono chiamate le virus like particle cioè a particelle in tutto simili a il capsi dell'involucro l'involucro virale e che quindi ingannano tra virgolette il sistema immunitario che monta una risposta come se ci fosse presente il virus queste particelle all'interno ovviamente non contengono il DNA virale quindi vanno soltanto a mimare la presenza del virus a livello ematico sia Gardasil che Cervarix si sono dimostrati molto efficaci quasi al 100% in medicina al 100% non esiste per una serie di bias e di fattori nei confronti alle lesioni provocate dai due genotipi 16 e 18 vi ricordo nuovamente che i 16 e 18 sono responsabili del 70% del tumore del colo dell'utero rimane però una parte di tumori dovute ad altri ad altri tipi di HPV contro cui i vaccini possono avere non è vero non fare nulla perché prima la professoressa vi ha spiegato che ci sono alcuni genotipi simili ad altri ad esempio il numero 16 è simile al 31 il numero 18 è simile al 45 per cui per un fenomeno chiamato di cross reazione di cross protezione si ha una protezione parziale anche verso ad esempio questi due genotipi anche se non sono esplicitamente segnati nella composizione del vaccino da pochissimo in commercializzazione anche in Italia il Gardasil 9 di cui vi parlerò un pochino meglio dopo e questo è un prodotto a mio giudizio ancora più interessante non che gli altri due non lo fossero sono degli ultimi prodotti anche gli altri due ma questo forse ha una valenza differente la vaccinazione è raccomandata è gratuita per le bambine che hanno compiuto 11 anni quindi che stanno vivendo il loro dodicesimo anno di vita è stato dimostrato efficace fino a 26 anni ugualmente efficace dai 12 ai 26 anni nelle ragazze che non hanno avuto rapporti sessuali o contatti sessuali e questo lo capite bene vuol dire che non si sono non hanno avuto la possibilità di infettarsi per via naturale e quindi di sviluppare eventualmente alterazioni cellulari o lesioni ugualmente però le donne che hanno avuto rapporti possono avere un beneficio dalla vaccinazione primo perché non è detto che abbiano incontrato l'HPV secondo perché potrebbero averlo eliminato spontaneamente terzo perché è davvero poco probabile che una donna incontri tutti e quattro o addirittura i nove attualmente genotipi contenuti nel vaccino ovviamente però il beneficio delle donne che hanno già avuto rapporti noi usiamo dire non naif non possono avere una copertura minore meno efficace attualmente il limite per essere vaccinate è 45 anni ok praticamente come si fa il vaccino nelle ASL quindi nelle bambine di 12 anni vengono somministrate due dosi perché si è visto che sono sufficienti due dosi perché il sistema immunitario di queste bambine quindi molto giovani con un sistema immunitario molto efficiente possa montare possa essere montata la risposta immunitaria al di fuori della vaccinazione delle 12 anni sono tre le iniezioni per il Gardasil al tempo zero dopo due mesi dopo sei mesi per il Cervarix poco diversamente zero, uno, sei mesi comunque nel giro di sei mesi nell'arco di sei mesi la schedula vaccinale è completata sottolineo questa cosa perché nelle donne in età fertile deve essere sconsigliato di cercare una gravidanza durante il ciclo vaccinale ok la vaccinazione in gravidanza non viene somministrata tantissime mamme mi chiedono se la protezione sarà a vita ad oggi la risposta è sì non perché abbiamo già dati a così lungo termine ma perché da modelli matematici ci è stato possibile estrapolare questo dato quindi dovrebbe essere una protezione vita natural durante ok non sono previste delle dosi di richiamo il vaccino entrambi questi vaccini provocano reazioni abbastanza comuni per tutte le altre vaccinazioni a noi note quindi febbricola irritazione nella zona dove è stata fatta l'iniezione mal di testa dolore muscolare una sindrome simile influenzale che dura non più di 24-48 ore infatti come vedete riportato questi sintomi si risolvono in genere nel giro di pochi giorni o spontaneamente con l'assunzione di paracetamolo ad esempio il vaccino è stato sperimentato su migliaia di donne si è dimostrato un vaccino sicuro parlo sia di Gardasil che di Cervarix non faccio distinzione fra i due vaccini in commercio come tutti i farmaci adesso io qui ho segnato nuovo ormai tanto nuovo non è più questo vaccino non conosciamo tutte le reazioni avverse anche quelle molto rare che alcuni vaccini possono ovviamente possono ovviamente dare ovviamente più è grande il numero di persone che viene vaccinato più è facile rilevare delle reazioni avverse che abbiamo e questo lo dico per noi medici il dovere di segnalare per quanto rare per quanto poco comuni però va segnalato esiste una scheda apposta per le reazioni al ministero della salute delle reazioni avverse legate alle vaccinazioni dopo il vaccino siamo tutti tranquilli non facciamo più il pap test no il pap test o comunque quando sarà l'HPV test andrà ancora fatto io so che tanti di voi fanno il pap test tutti gli anni o un anno sì o un anno no il pap test da screening è una volta ogni tre anni nelle donne vaccinate non c'è motivo di accorciare ulteriormente questo intervallo quindi ad oggi non abbiamo delle raccomandazioni differenti tra donne vaccinate e donne non vaccinate anche perché il numero delle donne vaccinate che si avvicinano all'età del pap test non è ancora così grande abbiamo iniziato a vaccinare nel 2007 quindi dieci anni fa è possibile quindi che in futuro avremo dei dati più sostanziosi per allontanare anche gli intervalli dello screening vi ricordo che la vaccinazione non è obbligatoria è raccomandata ed è gratuita solo per le ragazzine che stanno vivendo il loro dodicesimo anno d'età quindi che hanno compiuto gli undici anni le donne che decidono fare il vaccino al di fuori di queste fasce di età non hanno diritto alla gratuità e devo dire che soprattutto appena commercializzato questi vaccini entrambi erano tutt'altro che economici effettivamente le bambine vengono vaccinate alla ASL su chiamata per le altre fasce d'età la paziente può o acquistare autonomamente il vaccino dietro prescrizione medica e farsela fare dal medico di famiglia ad esempio piuttosto che dal ginecologo curante oppure rivolgersi agli ambulatori vaccinali ospedalieri prima di parlarvi della vaccinazione in ospedale vi dico appunto che così come sta cambiando la prevenzione secondaria con l'introduzione dell'HPV test sta cambiando anche quella primaria perché da pochissimo in Italia non senza difficoltà effettivamente questo nuovo prodotto che è il Gardasil 9 la schedula prevede due dosi per tutti quindi dodicenni o non dodicenni tutti faranno due dosi protegge contro nove genotipi e li vedete li elencati quindi 6 e 11 16 e 18 che già troviamo nell'altro vaccino che è il Gardasil più la giunta degli altri tutti questi genotipi tutti e nove questi genotipi insieme sono responsabili del 90% dei tumori della cervice uterina un argomento che ha messo a cuore perché vaccinare in ospedale io ho aperto sempre con l'aiuto del professor Mangioni l'ambulatorio vaccinale all'ospedale San Gerardo nel 2008 è stato uno dei primi ambulatori vaccinali ospedalieri fatti in ospedale e questo perché perché la nostra idea era quella di dover diffondere quanto più possibile questa vaccinazione non soltanto nelle fasce d'età raccomandate cioè le dodicenni ma anche perché no alle quattordicenni alle quindicenni alle sedicenni e così via soprattutto nelle donne che non avevano ancora avuto rapporti sessuali perché voi tutti sapete che il vaccino per essere efficace deve raggiungere un elevato indice di copertura altrimenti nuovamente protegge il singolo ma non la popolazione quindi la prima cosa era quella di andare a recuperare le bambine che non erano state vaccinate per motivi diversi a 12 anni ad esempio aderendo alla gratuità oppure a quelle che non avevano fatto in tempo non avevano fatto in tempo a vaccinarsi in questa fascia d'età noi ad esempio abbiamo avuto tantissime sorelle di dodicenni quindi la mamma portava a vaccinarla a dodicenne ma aveva la figlia a quattordicenne che voleva comunque e giustamente vaccinare e abbiamo pensato appunto che si potesse aprire questo ambulatorio vaccinale anche per offrire la vaccinazione ad un costo che abbiamo definito sociale cioè agendo noi sulla quantità abbiamo ottenuto come potete immaginare degli sconti delle agevolazioni da parte delle case farmaceutiche potendo erogare il vaccino ad un costo ridotto vi parlo dell'ambulatorio vaccinale a Lecco dove adesso lavoro da un mese e mezzo ma vale la stessa identica cosa per il San Gerardo di Monza dove ho lavorato per 15 anni prima l'accesso a questi ambulatori è libero e consente il costo agevolato come vi dicevo gli appuntamenti possono essere presi telefonici il giorno della prima dose è possibile parlare con un medico dedicato che quindi rifà il counseling alle mamme e alle ragazzine se sono minorenni o alle donne comunque se sono maggiorenne e il giorno della prima vaccinazione si pianificano poi le dosi successive concludo dicendo che tutte le volte e purtroppo capita ancora spesso io lavoro in centri di riferimento per l'oncologia per cui è ovvio che la mia visione è falsata dal numero un numero sicuramente elevato di donne che io vedo ma perché vengono accentrate in questi centri di riferimento quando facciamo diagnosi di tumore della cervice uterina oggi in Italia quindi in un paese cosiddetto sviluppato non in un paese del terzo mondo siamo davanti a due sconfitte la prima è la sconfitta dello screening spesso come diceva la professoressa queste sono donne che o non hanno aderito allo screening o purtroppo pur avendo aderito allo screening hanno un falso negativo da parte dello screening non sono tante ma purtroppo esiste anche questa possibilità e la seconda sconfitta è quando il tumore della cervice uterina si presenta in una donna giovane perché è possibile e in una donna che magari non è ancora diventata madre perché è possibile che noi si riesca a curare la malattia cioè è possibile che noi si riesca a curare il tumore della cervice uterina ma la cura del tumore della cervice uterina molto spesso passa attraverso l'asportazione e la demolizione dell'apparato genitale per cui possiamo spesso riusciamo a curare questa donna ma non a salvaguardare il suo potenziale di donna e ipoteticamente di madre grazie ringraziamo le relatrici che ci hanno così fatto percorrere tutta questa panoramica dalla dalla diagnosi attraverso la terapia attraverso la vaccinazione e la prevenzione vado corto e chiedo appunto se dalla parte ci sono delle domande possono vaccinare dai 12 anni in avanti le donne fino ai 45 dal punto di vista maschile invece dai 9 anni la vaccinazione è possibile al momento no al momento no però la vaccinazione può essere fatta sì io vi ho parlato le 12 anni perché in Lombardia la gratuità è prevista per però le bambine possono essere vaccinate gli studi vanno dai 9 ai 26 anni e ai maschi per i maschi la stessa cosa in alcune regioni d'Italia la Puglia ad esempio anche i maschi vengono vaccinati gratuitamente buonasera io volevo chiedere ma quindi il vaccino non ha valente ora come ora è in Italia presente ed è quello che viene somministrato no allora magari in realtà ogni anno ogni due anni adesso io non conosco bene queste dinamiche di mercato però viene fatto un bando vince il bando la casa farmaceutica che anche per un centesimo offre alla regione essendo entrambi i vaccini considerati sicuri ed efficaci il prezzo minore per cui anche se per un centesimo o Gardasil o Cerverix hanno un prezzo minore la regione Lombardia eroga quel tipo di vaccinoli tanto che noi abbiamo alcune dodicenni vaccinate con Gardasil altre dodicenni vaccinate con Cerverix a seconda della corte in cui sono rientrate Gardasil 9 non è ancora disponibile nelle ASL adesso io ho letto proprio l'altro giorno su un giornale di tipo divulgativo che anche in Italia è stato commercializzato non sono certissima che si trovi ancora nelle farmacie io l'altro giorno ho parlato con il farmacista del mio ospedale per chiedere se era possibile passare da un vaccino ad un altro perché ovviamente se ne ho uno che protegge contro il 90% i tumori del colo dell'utero mi piacerebbe poter utilizzare quello visto che io in ospedale non rispondo alla logica della ASL in cui devo scegliere assolutamente quello a costo inferiore e il farmacista mi ha guardato come per dire ma quando ma perché per cui io penso che sia solo una questione di tempo però se è arrivato in commercio vuol dire che anche le farmacie lo possono acquistare e ugualmente la farmacia degli ospedali e le ASL si dovranno poi adeguare alla gara perché anche Gardasil 9 presenterà la sua gara certo il 33 il tipo 33 è da considerare lesione pre-oncogia e cosa fa una persona cioè ogni tre anni fa test oppure deve fare qualcosa ogni anno ha solo l'HPV test positivo per 33 solo questo perché è stato fatto questo perché è stato fatto questo HPV c'era un pap test alterato in precedenza oppure no allora in genere adesso dovrei sapere qual è la lesione letta al pap test però tendenzialmente tutti i pap test anomali indipendentemente dal numero dell'HPV coinvolto accedono a colposcopia fanno la colposcopia poi a seconda di come è la colposcopia si decide come e se proseguire il monitoraggio colposcopico avere solo l'HPV 33 non è sinonimo di malattia la colposcopia allora le dico già che se la colposcopia è negativa se la colposcopia è negativa io ho un HPV test 33 non so il pap test ma colposcopia negativa la donna può essere rimandata a seconda poi del del pap test di origine o a 6 o a 12 mesi dipende dipende dalla linea guida e dipende da quanto il ginecologo si da quanto il ginecologo aderisce alla linea guida ok se la colposcopia è negativa o 6 o 12 mesi dipende dal pap test d'origine è negativa o 6 o 12 mesi il controllo successivo nel momento del parto può se c'è soltanto un riscontro di HPV 33 la donna partorisce normalmente per via vaginale vi ho fatto vedere che al momento del parto l'infezione pericolosa che dà lesioni molto raramente al neonato è l'HPV 6 non il 33 e i contraccettivi orali quindi assolutamente vietati nella maniera più assoluta no come no vietati no se ha solo l'HPV 33 la signora o la ragazza prende la sua pillola tranquillamente se ha una lesione pretumorale tipo CIN2 o CIN3 diagnosticata con una biopsia o al momento della colposcopia allora il consiglio è quello di sospendere il contraccettivo orale ma in realtà adesso il tempo che passa tra la diagnosi e il trattamento è talmente breve che non è che la pillola in quel frangente riesca a fare da acceleratore in maniera così fulminante ecco ok tra una gravidanza indesiderata e un HPV 33 positivo e trattamento per eventuale lesione successiva preferisco e continuo a prendere la pillola ok e i maschi cioè come si accorgono se ne accorgono come le donne non se ne accorgono facilità se hanno i maschi come le donne sono portatori se la donna non facesse il pap test e non avesse e non dovesse sviluppare i condilomi che sono visibili ad occhio nudo non se ne accorgerebbe la stessa cosa vale per il maschio il maschio non fa il pap test e quindi non può sapere di avere delle alterazioni cellulari o ha i condilomi perché li vede quando li vede oppure non lo sa non può saperlo sono portatori io spesso dico alle mie pazienti che il maschio siccome quando dico loro che è una malattia a trasmissione sessuale un po' ovviamente di insomma perplessità può nascere il maschio non è l'HIV è una cosa diversa il maschio non può sapere di essere portatore dell'infezione ma non si parla neanche di maschio infetto o di donne infette si parla semplicemente di portatori è un virus molto molto diffuso nella popolazione generale tra maschi e femmine non deve non deve nel senso che spessissimo le donne mi chiedono se io sto parlando degli maschi partner di donne portatrici di HPV perché poi c'è tutto il discorso rispetto agli omosessuali eccetera allora la donna che ha un pap test positivo per HPV o che ha un HPV test positivo per HPV non deve far fare al suo compagno necessariamente un test per l'HPV perché non è un'infezione ping pong cioè quel maschio potrebbe avergli la trasmessa ma può essere stato un compagno precedente non ho la terapia da dare anche se scopro che ha l'HPV 33 e soprattutto se la signora la ragazza sviluppa l'immunità non è che poi il compagno gliela ripassa ognuno ha la propria immunità tutto qui non c'è indicazione a fare ulteriori accertamenti nel maschio è preferibile farlo anche al bimbo? come avevo accennato io l'uomo comunque è un serbatoio per cui la circolazione dei virus fino a quando c'è l'uomo possiamo vaccinare le ragazzine però se vacciniamo anche i ragazzi riduciamo la circolazione di questi virus per cui in questo senso in molti paesi hanno già iniziato a vaccinare anche i maschi perché lei voleva sapere se fare il test per l'HPV o il vaccino se consigliavate di fare il vaccino anche ai bimbi per cui ritengo che questo sicuramente sia utile anche perché gli uomini hanno anche loro la possibilità di sviluppare la patologia e anche ridurre il serbatoio maschile riduce anche la circolazione dei virus un aspetto relativo ai vaccini è quello che osserveremo con gli anni in termini di quali sono i tipi che causano i tumori più virus noi controlliamo con il vaccino più gli altri possono appunto prendere il loro posto per cui come diceva è importantissimo non pensare che col vaccino si possa evitare di fare la prevenzione per cui non è detto che il vaccino elimini tutti i virus può darsi che se si vaccinano anche i maschi si blocchino proprio quei genotipi controllati dal vaccino e gli altri possono maggiormente emergere però appunto come molte infezioni perché stiamo parlando con qualche cosa che si modifica dobbiamo attendere anche le evoluzioni anche in termini di prevenzione la domanda è solo perché è maschio solo perché è maschio in un contesto di risorse scarse e verosimilmente decrescenti noi dovremmo cercare di individuare la strategia più efficace a minore costo allora mi viene in mente concentriamoci sulle bambine di 11 anni ed eventualmente sui bambini di 11 anni d'accordissimo e in questo modo noi se non eliminiamo sicuramente riduciamo il serbatorio certamente poi sarà compito dello specialista definire fino a quale età e in quale contesto è possibile consigliare la vaccinazione anche a soggetti oltre i 12 anni ma certamente in un contesto nel quale l'età del primo rapporto è sempre più precoce noi rischiamo altrimenti di inseguire e mai raggiungere facciamo come a chi le piega luce non riusciamo a raggiungere quella fascia di popolazione che è già comunque in parte e si è già contagiata e questa è la domanda poi però c'è una sassata le signore più presenti soprattutto se sono abituate a utilizzare utilizzando il punto termine a consultare il ginecologo privato si sentono regolarmente indicare la necessità del partest annuale vero allora mettiamo anzi mettetevi d'accordo io sono un medico di famiglia io sono d'accordissimo con me stessa per definizione ho scarsissima voce in capitolo sono nell'ambito della graduatoria a livello di passo ma non importa invece io conto molto se vi vuole io credo che a livello di linee guida generali sarebbe straordinariamente utile nel contesto di risorse economiche decrescenti e per non gradare sulle risorse private in ogni caso sarebbe utile che i ginecologi tutti insieme appassionatamente decidessero che il partest va fatto ogni tre anni penso che io sono d'accordissimo con lei e conto molto invece sulla strategia coniugata con i medici di base perché se la donna se lo sente dire dalla dell'anna che venendo in ospedale quindi pagando semplicemente il ticket ha un valore se se lo sente dire dal ginecologo privato che ha fatto partorire la mamma la nonna la zia la cugina che la segue da vent'anni eccetera che va fatto tutti gli anni mi creda ha più valore quello che dice il ginecologo privato magari se io ho la possibilità di avere un medico di famiglia che come lei sostiene la necessità di fare il pap test ad intervalli non inferiori a tre anni e mi creda non sotto i 21 anni perché io vedo pap test fatti a 17 anni quindi bambini ragazzine che arrivano in colposcopia perché hanno una lesione letta al pap test io faccio fatica a tranquillizzare quella mamma e a tranquillizzare quella ragazzina perché ormai scripta manent cioè su quel pap test lì c'è scritto che lei ha l'infezione di HPV e il dottor Google gli ha detto che con l'infezione di HPV arriva il tumore della cervice uterina per cui più il medico ginecologo medico di base tutti noi è informato più si attiene alle linee guida meno noi sperperiamo risorse volevo chiedere se una bambina o una donna si vaccina adesso con i farmaci attuali in futuro un'eventuale vaccinazione con ad esempio i successivi appunto vaccini è superflua o è una cosa c'è ragionata che può tutelare maggiormente la donna che ha aderito in maniera adeguata alla schedula vaccinale con uno dei vaccini in commercio non è indicato che venga rivaccinata con un vaccino ad esempio con una copertura maggiore